L'acqua e sapone Unigross perde 4-3 a Catania in gara 2, incredibile, allucinante sconfitta, maturata a tempo scaduto con un gol realizzato a mezzo secondo dalla Sirena, come del regolamento annullato dal primo fischietto che ha poi però convalidato, previa consultazione col Cronomen, con il conseguente Finimondo, per una marcatura che farà logicamente e inevitabilmente imbufalire gli abruzzesi, ora costretti a gara 3, sabato in casa come Pesaro e Dosson. Un peccatissimo se si pensa che in un match molto acceso per toni, ritmo e quant'altro, i nerazzurri con Luca Ian avevano rimesso a posto sul 3-3, che avrebbe evitato la bella, dopo una decisione doppio giallo a Iosico inevitabile che aveva scatenato la rabbia etnea. Vanificate dunque le reti di Fusari, Coco e lo stesso Luca Ian, nonché alcune prodezze mammaregliane. Restano invece le ossa rotte per quella che è stata ritenuta una colossale ingiustizia. Certo non la prima di una storica folta collezione. Grazie. 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 Grazie.